Icaro, il ragazzo che volò alto. Dedalo era un brillante architetto e inventore. In realtà, egli era così brillante che il re Minosse di Creta non voleva lasciarlo andare a casa sua ad Atene, invece lo teneva come prigioniero. Dedalo viveva con suo figlio Icaro in una torre del palazzo e il re Minosse gli fece inventare armi da guerra che avrebbero reso il suo esercito e la marina ancora più potenti di quanto già non fossero. Sebbene Dedalo ed Icaro avessero tutti i comfort che potevano desiderare, Dedalo voleva ritornare a casa, ad Atene. Suo figlio ricordava appena la sua città natale, ma anche lui voleva partire perché voleva correre e giocare all'aria aperta piuttosto che stare rinchiuso in una torre per tutto il giorno. Dedalo si affacciò sulle onde del mar Mediterraneo e si rese conto che anche se fossero riusciti a scivolare fuori dalla torre e trovare una piccola barca, non sarebbero stati in grado di andare molto lontano prima di essere individuati e catturati da una delle navi della marina militare del re Minosse. Riflettè a lungo sul modo migliore di fuggire e infine se ne uscì con un piano e lo mise in atto. Disse alla re Minosse che aveva bisogno di piume e cera per una nuova invenzione a cui stava lavorando. Quando gli oggetti gli furono portati, andò sul tetto della torre. Qui li dispose divisi in quattro linee, a partire dai più piccoli fino ai più lunghi, in modo da formare delle delicate curve. Poi cominciò ad attaccare le piume tra loro con del filo in mezzo e della cera alla base. Mentre stava lavorando, Icaro giocava con la cera, schiacciandola tra le dita e il pollice e quando le piume volavano via col vento, lui correva dietro di loro e le riprendeva. Quando ebbe finito Dedalo, mostrò a Icaro il suo lavoro. Aveva fatto due paia di ali con le piume, fissò la coppia più grande alle braccia e cominciò a sbattere finché i suoi piedi si staccarono da terra e così cominciò a librarsi a mezz'aria. Icaro rise di gioia, non vedeva l'ora di provare la coppia di ali più piccole. Nel corso dei giorni seguenti, padre e figlio fecero pratica con le ali, tanto che Icaro diventò bravo a volare quasi quanto suo padre. Poi Dedalo una mattina disse a Icaro, adesso figlio, siamo pronti a lasciare l'isola per sempre, voleremo fino a casa, ad Atene. Ma anche se ora sei abbastanza bravo a volare, non devi dimenticare che può essere molto pericoloso. Quindi, ascolta le mie istruzioni e accertati di seguirle. Stai per tutto il tempo dietro a me, perché sarò io a trovare la strada di casa. Non volare troppo basso o le tue ali si riempiranno dell'umidità delle onde e diventeranno troppo pesanti e potresti affondare, disse Dedalo. Non dovrai volare troppo alto o il sole riscalderà la cera e le tue ali cadranno a pezzi. Hai capito tutto quello che ho detto? Il piccolo Icaro annoì per dimostrare al padre che aveva capito. E allora Dedalo portò suo figlio in alto sulla torre e come un uccello che insegna a volare dal nido ai suoi pulcini per la prima volta, spiccò il volo e sbatté le ali e Icaro lo seguì da lì a poco. Se un pescatore o un pastore avessero alzato la testa in quel momento, avrebbero visto due uccelli molto insoliti in bilico sopra le onde. Non c'è dubbio che avrebbero pensato che fossero due divinità alate. Chi avrebbe mai creduto che due uomini, padre e figlio, avessero imparato l'arte del volo? Volarono sopra i mari e in un primo momento Icaro si spaventò perché non aveva mai osato andare molto lontano nei suoi voli di pratica, ma ben presto si accorse che era veramente bravo a volare. In effetti, era il più grande divertimento che avesse mai avuto. Cominciò a volare a picco su e giù con i gabbiani. Wow! Era incredibile! Suo padre si voltò e chiamò Icaro, stai attento! E per un po' Icaro obbedì al padre e volò dietro di lui. Ma poi le sue ali presero una corrente d'aria calda e lui scoprì che poteva salire verso l'alto, a lungo e quasi senza sforzo. Quella era vita! Stava volando talmente in alto sopra le onde che le navi al di sotto erano come piccoli puntini. Suo padre lo chiamò Icaro, ricorda cosa ti ho detto, scendi subito! Ma Icaro non poteva sentirlo e suo padre non riusciva a raggiungerlo. Icaro era troppo vicino al sole e ben presto la cera che teneva insieme le piume cominciò a sciogliersi. A poco a poco le sue ali cominciarono a perdere la loro forma e alcune delle piume cominciarono a cadere. Icaro agitò le braccia freneticamente ma era troppo tardi. Aveva perso il potere del volo e si tuffò giù nel mare mentre urlava Padre! Padre! Ma non c'era niente che Dedalo potesse fare. Icaro riuscì a nuotare verso la riva ed Edalo dovette andare ad atterrare incontro al figlio. Questo però significava che sarebbero stati catturati e rimessi nella torre del re Minosse. Furono sconvolti ma la cosa più importante era che erano di nuovo insieme. Icaro imparò una lezione importante però. Si dovrebbe sempre ascoltare i propri genitori. Fine